Dottor Caponetti ci sono lavori che sono in atto proprio in queste ore al Covid-Ospital e state ulteriormente migliorando la struttura soprattutto nei primi piani? Certo, noi avevamo ancora tre piani da completare, abbiamo ricevuto i finanziamenti e quindi completeremo anche questi piani e quindi tutti e sette i piani del cosiddetto Palazzo Rosso saranno aggiornati, nuovi e utilizzabili per l'ospedale. In base a questo è ipotizzabile se non oggi più avanti un aumento di posti letto qualora dovesse essere necessario? Beh, quelle strutture che andiamo a realizzare sono pluripotenti nel senso che all'occorrenza possiamo trasformarli anche in posti Covid se fosse necessario. L'idea è quella di utilizzarle per altri reparti che pian piano trasferiremo dal monoblocco qui in modo da dare più respiro al monoblocco. A proposito di Covid, i dati delle ultime ore sono dati abbastanza rassicuranti sia per quanto concerne i positivi, i ricoveri e anche le persone che si trovano in terapia intensiva? Sì, i dati è un andamento stabile in questo momento, abbiamo circa una trentina di positivi ogni giorno e poi abbiamo circa oggi 27 ricoverati, di questi due sono in rianimazione. Gran parte dei ricoverati sono persone non vaccinate, quindi da qui il solito sollecito a vaccinarsi perché le persone vaccinate, anche se contraggono il Covid, hanno una sintomatologia quasi insignificante. L'estate è finita, tra meno di una settimana apriranno le scuole, insomma, volendo fare qualche previsione per i prossimi giorni, insomma, questa riapertura in presenza delle scuole potrebbe creare qualche problema? C'è qualche preoccupazione da questo punto di vista? Beh, preoccupazione c'è, non fosse altro perché ripensiamo a quello che è successo l'anno scorso, no? L'estate era andata molto bene, poi invece con la riapertura delle scuole si è scatenato l'inferno. Quest'anno dovremmo essere più protetti dalla vaccinazione che almeno per quanto riguarda gli individui adulti e siamo in attesa e stiamo armandoci da un certo punto di vista. Speriamo che le cose vadano meglio dell'anno scorso, ripeto, abbiamo degli elementi oggettivi per pensare che così sia.